L'appello è infondato, l'ordinanza di sospensione dei lavori è stata superata dalla loro ultimazione e poi c'è anche il parere favorevole dell'ARPA. Ecco perché il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Rometta contro Wind 3 Spa. Il contraddittorio riguardava il Comune, rappresentato dall'Avvocato Silvano Martella, contro Wind 3 Spa, rappresentata dall'Avvocato Giuseppe Sartorio e Celnex Italia Spa, rappresentata dall'Avvocato Salvatore Abramo. Il Comune aveva chiesto la riforma della sentenza del Tar di Catania, con cui era stato accolto il ricorso per l'annullamento dell'ordinanza contingibile urgente 6 dell'11 maggio 2021, con la quale era stata disposta la sospensione dei lavori per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni Wind 3 Spa. Sull'impianto c'era il parere positivo del Genio Civile di Messina e dell'ARPA Sicilia. In avanti però le due società ripresentarono l'istanza, con un nuovo progetto architettonico ed analisi di impatto elettromagnetico, senza apportare modifiche sostanziali al progetto precedentemente presentato. L'ARPA avanzò richiesta di integrazione e prima rilasciò parere non favorevole, poi invece favorevole, attestando il rispetto dei limiti di esposizione. Il Comune di Rometta aveva già diffidato dalla realizzazione dei lavori di quel nuovo progetto. Acquisiti tutti i pareri, le società però comunicarono l'inizio dei lavori e il Comune di Contro adottò l'ordinanza oggetto del ricorso, preoccupato sulle possibili negative implicazioni che l'esposizione ai campi elettromagnetici avrebbero potuto generare sulla salute dei cittadini. Wind chiese la revoca dell'ordinanza e poi presentò ricorso al TAR. Ottenuta la sospensiva, ripresi i lavori che furono ultimati il 31 dicembre 2021. Per il CGA l'appello è infondato perché l'ordinanza di sospensione dei lavori appare del tutto superata dalla loro ultimazione. Per il CGA poi il Comune si è sostituito illegittimamente all'ARPA, ente a cui spetta la valutazione i sui rischi da esposizione ai campi generati dagli impianti in questione.